Dopo le dichiarazioni di ieri sera di Conte sulla necessità di fermare una serie di attività non essenziali, i sindacati metalmeccanici sono pronti a chiedere provvedimenti immediati per l'ex Ilva di Taranto, pertanto la fabbrica va verso un'ulteriore frenata. Per Antonio Talò della Wilma a questo punto bisogna mettere in sicurezza gli impianti e fermare anche ArcelorMittal, che è essenziale, oggi come oggi non è certamente. Deve valere per tutte le aziende metalmeccaniche del territorio, stop senza se e senza ma. Spero che non ci costringano alla mobilitazione per la Wilma, inoltre non si poteva continuare a lavorare, oltre a fronteggiare i rischi del lavoro quotidiano, in questi giorni era evidente la paura sul volto dei lavoratori in tutte le aziende. Fermiamoci, prima si farà, prima ripartiremo, è quanto afferma il sindacalista. Lo diciamo dall'inizio, ArcelorMittal deve necessariamente fermare altri impianti, sostiene Francesco Brigati della FIOM, mentre Prisciano di FIM CISL avverte, noi siamo per diminuire l'attività e di conseguenza la presenza dei lavoratori in azienda. Per tenere in sicurezza una fabbrica come il Siderurgico di Taranto servirebbero circa 500 lavoratori di comandata, lo dichiara all'AGI lo stesso segretario della Wilma Talò, valutando il tipo di impatto che le decisioni di Conte hanno sulla stretta produttiva del paese. Le comandate entrerebbero in attività, essendo il Siderurgico una fabbrica al ciclo integrale, dove la complessità degli impianti non ne consente il loro definitivo spegnimento. Con le comandate gli impianti andrebbero a regime minimo tecnico. Ricordiamo che ArcelorMittal a Taranto ha già fermato diversi impianti, infatti restano ancora in attività l'Acciaieria 2 e gli Altiforni 1 e 4. In stabilimento complessivamente ci sono al momento 4.000 persone, ovvero al di sotto del 50% della forza organica. Grazie.